Il cane che ci mordicchia ha in testa un riferimento, tu sei quello che mi crea stress e quindi già il solo vederti anche se non fai nulla mi crea stress, ti attacco. Questo è quello che succede spesso quando la gente dice ma io non faccio nulla, ti assicuro che non faccio nulla e lui appena mi vede mi attacca perché sei quello che nella sua testa ha fatto qualcosa in passato e quindi sei diventato rappresentazione di stress anche se in quel momento non stai facendo nulla.